Buongiorno, ben ritrovati dalla relazione web della città, buon mercoledì 19 ottobre, giornata di cielo coperto e nubi, quella di oggi a Torino, tra poco vedremo le previsioni per il pomeriggio e per la serata, brema però alcune notizie di viabilità, vi segnaliamo dei lavori che porteranno dei disagi, fino alle 18 di oggi un divieto di transito nel quartiere San Paolo, in via Isiglio, tra via Monginevro e via Lancia, altra segnalazione di disagi alla circolazione in strada della Creusa, anche qui sempre per lavori. Vi segnalo anche quelli che sono gli autovelox posizionati per la giornata di oggi, li troverete nei corsi Moncalieri, Grosseto, Trapani, Unita d'Italia, in strada Gruento, strada dell'aeroporto, in via Traves e in via San Sovino. Vedendo invece la situazione del tempo, come vi dicevo prima, questa mattina abbiamo nubi in città, una temperatura che al momento è intorno agli 11 gradi, poco più, quasi 12, un po' meno la temperatura percepita per via dell'umidità che è comunque sopra il 60%, per oggi attendiamoci un cielo coperto, nubi che a partire dal pomeriggio intorno alle 17 circa dovrebbero anche portare della pioggia che caratterizzerà tutta quanta la fine del pomeriggio, la serata e probabilmente anche un po' della notte, notte che non sarà particolarmente fredda come quelle dei giorni scorsi, avremo comunque temperature minime nell'ordine degli 8 gradi circa, per quest'oggi attendiamoci delle massime intorno ai 14 gradi, come detto dalle 17, attenzione, potrebbe arrivare la pioggia. Passiamo adesso a vedere le notizie di Torino Click, l'agenzia quotidiana della città che ogni giorno avete in formato PDF sulla nostra home page, la prima notizia riguarda alcuni interventi di manutenzione stradale che sono stati decisi nella riunione della giunta di ieri, si tratta di interventi straordinari di manutenzione che riguardano 12 lotti, 10 destinati uno ciascuno alle circoscrizioni, quindi con lavori di rifacimento di marciapiedi, caraggiate stradali, banchine ed aree di parcheggio, uno riguarderà gli interventi di sostituzione dei guardrail soprattutto nelle strade collinari dove sono necessari questi interventi e l'ultimo riguarderà invece variazioni alla viabilità dovute al rinnovo del parco dei semafori. L'altra notizia che vi proponiamo da Torino Click riguarda invece una variazione, una variante al piano regolatore che è stata approvata ieri dalla giunta comunale che porterà a una risistemazione dello storico edificio della Borsa Valori di Torino, quello che si trova in via San Francesco da Paola vicino al piazzale Valdofusi. La camera di commercio che ne è la proprietaria ha proposto alla città una destinazione polifunzionale che permetterà di creare uno spazio destinato anche ad attività culturali, questa variante di piano regolatore si inserisce proprio in questa direzione, trovate i dettagli in più nell'articolo di Torino Click. Adesso andiamo sulla nostra home page, vediamo la notizia che abbiamo questa mattina selezionato per voi tra quelle che sono pubblicate in prima pagina, si tratta degli appuntamenti con i geometri all'interno delle biblioteche civiche di Torino, vi ricordo che vanno avanti fino al 2 di dicembre, si tratta di consulenze gratuite di cui potete avvalervi prenotandovi per tempo attraverso i servizi di Torino Facile, dalla notizia trovate tutte le informazioni per poterlo fare. Vediamo adesso con le telecamere del Consorzio 5T la situazione del traffico in diretta dalle vie della città, qui siamo in Corso Agnelli all'angolo con Corso Cosenza, ci troviamo su Corso Cosenza in direzione est, la vedete la situazione abbastanza complicata ma non particolarmente. Qui siamo invece in direzione di Beinasco su Corso Orbassano, tutto scorre abbastanza tranquillo, spostiamoci poi ancora in Piazza Le Baudengo direzione est su Corso Grosseto, traffico abbastanza sostenuto, lo vedete in questa immagine e chiudiamo con un'altra immagine di traffico sostenuto in Corso Maroncelli, la rotonda Maroncelli in direzione di Corso Trieste. È tutto per questa mattina, allora grazie per averci seguito, grazie a Mario Parena per la messa in onda, a voi l'augurio della buona giornata.